E' la bella manifestazione di Promolegno nell'ambito di Expo, il motivo per cui c'è una nuova interessante visita all'Expo. Sonia Maritan, direttore di Struttura Legno, Sistema Serramento e Fare Italia, dà i suoi commenti sulla manifestazione e sulle strutture in essa ospitate, ma anche Pietro Ferrari, direttore di Industria del Mobile e il Legno e Paola Govoni, direttore di World Furniture, dicono la loro su questa bella e interessante manifestazione che sta registrando un buon successo nello scenario dell'estate milanese. Benvenuti all'Expo, emozionante essere qui, a me riporta il dietro del tempo, alle pagine della storia, al 1850 o giù di lì, con la prima esposizione universale di Londra e è interessante forse fare, anche se in poco tempo non è così banale un confronto tra oggi e ieri, perché sicuramente quelle esposizioni universali di cui abbiamo letto e studiato tutti avevano, come dire, lo scopo di raccontare questi nuovi materiali, queste nuove tecnologie e poi anche di farle circolare per il mondo. Quella di oggi mi chiedo, qui e ora, quale scopo avrà, no? Perché nell'era della rete, della società liquida di Bauman, forse lo scopo è un altro, forse è più quello di congelare, a partire da questa esperienza, dei pensieri, dei concetti e magari, se sono interessanti, farli diventare dei principi. Soprattutto facevamo anche del legno come finitura, questo è un bellissimo, una bellissima parete reticolare con il multistrato, semplice e pure assolutamente nell'insieme, ripresa da lontano, credo che renda moltissimo. Oltre che richiamare anche qui molto alla cultura del luogo, in questo caso siamo nel padiglione turco, che poi mischia e miscela con altri materiali, come quella parete maiolica e come questa parte si fa realizzata in ciena. Parlavamo prima nel padiglione austriaco di questo futuro grattacielo di 200 metri in Cina che verrà realizzato in legno, ma ovviamente è in legno perché c'è la collaborazione importantissima di altri materiali strutturali, soprattutto nei nodi dell'acciaio e credo anche del cimento armato. Quindi è bello anche vedere i colori dei materiali e le combinazioni dei materiali, anche perché forse parlavamo del fatto che sono più questi concetti che dovranno rimanere una volta che finirà questa lunga festa dell'Expo a Milano e i messaggi più importanti saranno quelli di creare delle filiere. In questo modo anche quasi si possono creare dei paralleli costi, cioè quella alimentare, quella dell'architettura e delle costruzioni, perché si può parlare di processo biologico e quindi di un ciclo di vita che si chiude il stesso stesso, un ciclo di vita che alla fine sia nel materiale utilizzato, ma soprattutto nella possibilità di riutilizzarlo di poter cambiare la destinazione d'uso senza avere dei costi aggiuntivi e di avere un ciclo di vita che si chiude su se stesso, quindi dalla fulla alla fulla, dove niente viene buttato via, ma tutto viene riutilizzato. Se vogliamo dare dei parametri a quello che si definisce a volte in maniera abusata un prodotto verde, potrebbe essere la leggerezza del materiale, la riciclabilità del materiale, quindi non sempre necessariamente solo il legno, anche se il legno in questo è molto avvantaggiato per essere in assoluto materiale ecologico, rinnovabile e coltivabile per eccellenza, però la logica forse di una costruzione, la possiamo ben vedere espressa qui all'expo è proprio quella del riuso e di un'altra destinazione con le stesse componenti ricomposti in altro modo, come quando alla fine di una grande festa e di una grande cena prendi gli avanzi del giorno dopo e ricombini una nuova pietanza, non è detto che sia peggiore di quella che ha originato la scelta degli ingredienti per la ricetta originale. Questo è il meraviglioso padiglione giapponese che abbiamo visto un po' nascere e crescere con delle interviste di cui ci siamo occupati su struttura legno e quindi anche tutta la tecnologia che dietro poi ha creato questo incredibile lavoro, questa sorta di paravento magico che emana un profumo buonissimo e inebriante di larice giapponese e questo gioco di incastri credo che parli da solo e qui sicuramente la macchina e il software hanno avuto una parte fondamentale di cui per noi è particolarmente bello vedere il risultato. Il legno è usato nel padiglione Estone con la massima decisione, non solo le strutture esterne, i rivestimenti ma anche i pavimenti e tutto ciò che sta nell'interno. è realizzato il legno di pino di meravigliosa grezzezza, si sembra un uso appropriato in cui il legno da solo contribuisce a costruire il progetto architettonico. sul finire di questa splendida giornata all'Expo siamo ancora in un altro padiglione, quello estone in cui il legno è assolutamente a vista e costituisce sia l'interno che la struttura con questo rivestimento molto semplice in pino eppure molto efficace e molto bello, anche quel pavimento esagonale molto elegante all'ingresso del piano sopra dove siamo, nonché questa bellissima foresta digitale, un altro ulteriore inno al legno. Consideravamo, guardando un po' di padiglioni, ma anche questo che è usato molto in modo rustico, per cui molto lasciato grezzo, eppure è altrettanto efficace, non so se questa sia una scelta progettuale o sia andata dalla fretta di costruire questi padiglioni, però l'effetto è comunque interessante. Bene. Siamo nel ristorante del Sultanato dell'Oman, in uno spazio rilassante, piacevole, nella luce della sera. Stiamo assaggiando specialità locali, agnello, riso, tutto naturalmente condito con salse e spezie, con un mix di colori straordinario, bevendo succhi di frutta e godendo di questa cornice di acque, sale, di palme e di legno, che c'è sempre. Grazie. Grazie. Grazie.